Le condizioni neurologiche sono la principale causa di morte e disabilità combinate. Questa crisi sanitaria pubblica è diventata una priorità globale con l'introduzione del piano d'azione globale intersettoriale dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, sull'epilessia e altri disturbi neurologici. 18 mesi dopo l'adozione di questo piano, le parti interessate globali della neurologia, compresi i rappresentanti di One Neurology Partnership, un consorzio che unisce organizzazioni neurologiche globali, fanno il punto e sostengono un'urgente accelerazione dell'implementazione dell'IGAP. Traendo insegnamento dai pertinenti contesti sanitari globali, questa politica sanitaria identifica due obiettivi IGAP prioritari per accelerare la realizzazione nazionale dell'intero piano decennale, vale a dire aggiornare le politiche ai piani nazionali e creare campagne di sensibilizzazione e programmi di sensibilizzazione per le condizioni neurologiche e salute del cervello. Per garantire il rapido raggiungimento degli obiettivi prioritari identificati, vengono proposti sei fattori strategici. Consapevolezza della comunità universale, approcci neurologici integrati, governance intersettoriale, addomesticamento IGAP coordinato a livello regionale, elaborazione di politiche basate sull'esperienza vissuta e il mestre Ningming neurologico che sostiene l'inclusione della salute del cervello in una più ampia agenda politica. Contestualizzato con gli sforzi emergenti a livello globale diretti dall'IGAP e con le considerazioni chiave per la progettazione di politiche intersettoriali, questo nuovo quadro fornisce raccomandazioni attuabili per i decisori politici e i partner dell'attuazione dell'IGAP. Il perseguimento tempestivo e sinergico dei sei fattori potrebbe aiutare gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a coltivare la consapevolezza pubblica e le strutture politiche necessarie per un'implementazione intersettoriale di successo dell'IGAP entro il 2031, aprendo la strada alla salute del cervello per tutti. Introduzione Le condizioni neurologiche sono la principale causa di mortalità e disabilità combinate, classificandosi al primo posto negli anni di vita corretti per la disabilità deli e al secondo come causa di morte globale. Le condizioni neurologiche rappresentano 9 milioni di decessi all'anno. Almeno una persona su tre svilupperà una malattia neurologica nel corso della propria vita, con un costo superiore a 1,7 trilioni di dollari solo in Europa e negli Stati Uniti. Oltre la metà dei paesi presenta un rischio crescente di morte per patologie neurologiche, rendendo la causa di morte in più rapida crescita tra le malattie non trasmissibili. Entro il 2040 si prevede che le condizioni neurologiche aumentano il deli di circa il 50%. Questa crisi sanitaria pubblica è causata dalla crescenza dell'età della popolazione globale, dall'invecchiamento della società, dal miglioramento delle condizioni e delle opzioni terapeutiche per patologie un tempo letali, dall'insicurezza alimentare, dai confini armati, dai cambiamenti dello stile di vita, dalle condizioni post-covid-19, dall'inquinamento ambientale e cambiamento climatico. Sebbene le condizioni neurologiche colpiscano molti individui di tutte le età in tutto il mondo, la maggior parte del peso, 78,5% dei decessi e 73,3% di deli, si verifica nei paesi a basso e medio reddito, LMIC, rispetto ai paesi ad alto reddito, i paesi a basso e medio reddito hanno maggiori probabilità di affrontare notevoli limitazioni in termini di risorse, ad esempio accesso insufficiente ai farmaci essenziali, alle infrastrutture mediche e alle attrezzature mediche, carenza sproporzionata di forza lavoro neurologica, ad esempio in media ci sono tre neurologi adulti ogni 10 milioni di persone nei paesi a basso e medio reddito rispetto ai 475 neurologi adulti ogni 10 milioni di persone nei paesi ad alto reddito, una differenza maggiore di 150 volte. Determinati sanitari negativi, ad esempio bassi livelli di consapevolezza pubblica e di alfabetizzazione sanitaria, povertà, stigma diffuso o legislazione discriminatoria e catastrofiche spese sanitarie vive, queste crescenti disparità sanitarie e neurologiche globali sottolineano l'urgenza dello sviluppo delle capacità e dei piani d'azione nazionali prioritari nei paesi a basso e medio reddito. È disposta a questa crescente crisi sanitaria pubblica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato il piano d'azione globale intersettoriale sull'epilessia e altri disturbi neurologici 2022-2031 IGAP. Nel maggio 2022 con 194 stati membri che si impegnano a ridurre lo stigma, l'impatto e il peso dei disturbi neurologici e a migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi neurologici, dei loro accompagnatori e delle loro famiglie. Inoltre, un documento di sintesi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla salute del cervello è stato pubblicato come complemento tecnico IGAP definendo la salute del cervello come lo stato del funzionamento del cervello attraverso ambiti cognitivi, sensoriali, socioemotivi, comportamentali e motori che consente ad una persona di realizzare il proprio pieno potenziale nel corso della vita indipendentemente dalla presenza o assenza di disturbi. Questi traguardi che segnano un cambiamento fondamentale nella politica sanitaria globale e una rivoluzione neurologica impongono all'Organizzazione Mondiale della Sanità e agli Stati membri di agire con decisione nell'affrontare la salute del cervello e l'escalation del carico neurologico. Due obiettivi prioritari IGAP per l'attuazione accelerata del piano decennale sono l'IGAP infatti contiene 5 obiettivi strategici e 10 target globali che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2031. I governi hanno il compito di addomesticare e implementare intersettoriale il quadro IGAP per fornire programmi innovativi, contestualizzati e integrati che superino le misure convenzionali di sanità pubblica. L'addomesticamento implica la definizione di obiettivi nazionali specifici al contesto che affrontino le esigenze e le sfide prioritarie locali abbinate ad indicatori chiari per valutare i progressi. Le politiche dirette dal IGAP dovrebbero essere intersettoriali riflettendo l'interconnessione tra la salute neurologica e cerebrale e più ampi contesti sociali, politico, legislativi, economici e ambientali.